... Vai Marco! Dai 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 dai! Vai Marco! Non perdere posizione! Non perdere posizione! Non ti abbraccio! Vai Marco! Vai! Sento secondi! bravo, bravo, giustissimo la mano a sola secondi 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 subo il braccio primo classificato senatore Calabone, vicegera secondi un caglio, vicegera terzo, l'oncigiano forza Marco forza Marco faccio i piedi finale 25 greppi perrenti dell'aria passa subito passa subito la mano a destra continua con la mano a destra vai Marco dai 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 Marco va uuuuuh Grazie.